La prima regata La prima boha Nella poppa abbiamo recuperato Abbiamo girato terza in gate Poi Nella seconda bollina abbiamo perso la brasiliana Però comunque erano molto vicine Poi nell'istata di Lasco Abbiamo avuto problemi Si è incastrata la scotta dello spi Ci sono 20 nodi no? Sì Nel tampone abbiamo perso un po' di distanza Dalle prime Però abbiamo finito quarte Nella seconda Sai che io non do mai la colpa alla sfiga Però ti giuro In partenza a 20 secondi È arrivato un frangente Allegate No piena d'acqua di più Siamo partite Cioè pure le più pellegrine Cavolo andavano più forte di noi E poi recuperare è stato difficile Abbiamo sempre avuto la possibilità C'è la consistenza di tutti i colori Ci è venuta addosso una barca Però è un 15 che comunque è meglio Dei risultati peggiori delle altre Un 15 che non è da buttare completamente No 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 penso che siamo secondi Comunque nelle prime tre Quindi domani ci divertiamo? Domani ci divertiamo Forza Giulia Grazie Grazie